I piani della Commissione europea per un nuovo organismo etico e interistituzionale sono poco ambiziosi e insoddisfacenti, almeno secondo i membri del Parlamento europeo. Presentato dalla Commissione a giugno, il previsto organismo etico è una risposta allo scandalo di corruzione del Qatargate che ha offuscato l'immagine delle istituzioni europee, rivelando lacune nelle regole di integrità. Ora i deputati europei hanno affermato in una risoluzione che l'organismo mancherebbe di indipendenza e non avrebbe poteri reali per indagare o punire le violazioni. La proposta della Commissione ha diviso il Parlamento, i gruppi di destra si sono astenuti dal criticare i piani, ma i gruppi di sinistra e di centro hanno chiesto maggiori poteri investigativi, maggiore protezione per gli informatori e regole di trasparenza più severe per le ONG. La declarazione delle attività, la transparencia di chi ci troviamo, chi fa quando vi rivela, sanzionando comportamenti non-ethicali, cose che già devono essere in place per qualche tempo, ma siamo restati alla buona volontà della maggioranza di persone buone. I deputati dal 2021 chiedono regole etiche più rigorose, quindi da prima che scoppiasse lo scandalo del Qatargate. Questo giovedì a Strasburgo il Parlamento voterà la sua posizione finale.